del chiaro si fa vedere Hawkins da molto lontano allora si va a Della Rosa, non mancano 6 secondi 5, Camagate sulla linea di passaggio Hawkins deve tirare forzato Ryan non è contro Zerini arriva ora l'aiuto, c'è un vantaggio Moore extrapezi in angolo, Hawkins si arriva ora che è entrato in partita tra lui e Dow Tortone è tornata lì Hawkins fa saltare Ken Wims non può raggiungere 4.500 in Serie A Hawkins da 3